Questo programma è offerto da L'Emporio dell'Auto a Doristano da oltre 60 anni offre con serietà e professionalità assistenza nel campo dei ricambi auto specialisti sui ricambi per impianti di climatizzazione Bosch Partner vendita attrezzature, assistenza officina e deposito batterie FIA vendita al dettaglio di ricambi auto nazionali ed estere L'Emporio dell'Auto vi aspetta Doristano in via Cagliari al numero 140 142 telefono 0783 21 23 83 Night and Day chiosco bar su lungomare di Torre Grande posti a sedere e vista mare menu turistici, pranzo e cena musica DJ set il venerdì e sabato dalle ore 23 aperto tutti i giorni, tutto il giorno Night and Day a Doristano su lungomare e le nonna d'Erborea della borgata marina di Torre Grande Ma siete cariati? Siete dei suini aspetta poco poco musica DJ set il venerdì e la borgata marina di Torre Grande musica DJ set il venerdì e la borgata marina di Torre Grande e come ultimo quello di promuovere talenti emergenti proponendo un concorso composto da vari appuntamenti musicali di Uliti in tutto il periodo estivo del 2014 Radio Contea anche su Radio Super Sound io sono Paolo Frau, c'è Cristian Lopez in regia tutto è pronto dobbiamo partire con la prima band che andiamo a sentire in questa puntata di Radio Contea bene, mi raccomando, orecchie all'apparecchio perché sentite davvero stasera delle band altrettanto importanti come quelle che abbiamo sentito nella prima i Low Grid sono la prima band che andiamo a sentire sono una band rock pop italiana propongono un sound moderno deciso e ben organizzato a metà strada tra il Britpop e il rock pop americano degli anni 90 oh, eccoli qui Runway, la prima canzone Low Grid questi sono proprio dei ragazzi interessanti ve li faccio sentire vi ricordo che c'è veramente da stare attenti perché la band che vincerà si porterà via davvero un bel premione è getting kinda late fighting versus everything running to my memory I will my image and all of you You run away to doubt that you are Run away to far My view and you go your own way My heat is since refused your hand It's high enough Be it alone Redigestion past regrets It's hard enough to find a home You love it when I say you are my world Run away to get the true world Run away to far My view and you go your own way My healing says we've built your hand Your hand My heart Ecos estimulo me The sun acabou You're right Very big At times True The sun It's hard enough to impact You're right You are oh I'm you're right E' veramente bravi, questa è la prima band Che apre la seconda parte, la seconda puntata di Radio Contea su Radio Supersound Buona serata amici, ben ritrovati, avete sentito il Low Grind Si dividono loro tra concerti in studio E impegnati nella realizzazione di quello che è il loro primo album Vi ricordo che loro sono Andrea Carmelita Voce, Alessandro Della Palma chitarra Gianluca Macis chitarra, Ivan Baragone basso e Fabrizio Foglia invece alla batteria Oh bene bene bene, siamo pronti per sentire anche DMC La seconda band che sentiamo in questo Radio Contea E direi che possiamo parlare di lui, nasce artisticamente nel 2006 Dopo dieci anni di solo ascolto, all'inizio assieme al gruppo Blocco E poi procede la carriera da solista calcando i più svariati palchi della Sardegna Allora DMC ci fa sentire la canzone, la cancion, la cancion, siamo un po' spagnoli stasera La canzone, attenzione perché il titolo è tutto un programma Ma quante fighe nella disco Ma quante fighe nella disco Ma quante fighe nella disco Settimana da incazzo stellare, basta splettare, ora voglio carteggiare Passo il purple all'orange bar, prima di salire si è sto bluestar Parto già con l'occhio del diavolo, più stupefacente riesco a bar Pablo Biglietti ma ne sono già all'ingresso e butta fuori chi mi dice Ehi non fare il face Entro subito e sono già al balcone, vedo la barista ma che bel balcone Cerco le tasche e le consumazioni, ci metto tanto perché fissi due veloni Inizio a sudare, caldo imperiale, questo è l'impegno settimanale Vorrei avere più di mille occhi per guardare tutte fine se rintocchi Ma quante fighe nella disco Son tutte belle nella disco Ma quante fighe nella disco Son tutte belle nella disco Le mani al cielo Scelgo giù, vado a ballare in pista Sguardo fisso al culo della cubista Come si muove, come muovi i fianchi Gli occhi sono rossi, prima erano bianchi Tipe mi mandano il sangue e il cervello Troppa carne e tutto un gran macello Perdo la strada, non so dove andare Sto a scantonare, devo svampurare Ora sono pronto al prossimo round Solo per le donne qua non c'è il mio sound Questo è l'unico mio vero motivo Diventa positivo l'aspetto negativo Non ce la faccio più, sto a boccheggiare Devo acciupare, devo strafogare Passa il panino, fissa la vana Rivederci alla prossima settimana Ma quante fighe nella disco Son tutte belle nella disco Ma quante fighe nella disco Son tutte belle nella disco Ma quante fighe nella disco Son tutte belle nella disco Ma quante fighe nella disco DMC nella nostra seconda puntata di Radio Contea Su Radio Super Sound Allora parliamo velocemente di Radio Contea Prima l'ho fatto in maniera veloce Stavamo iniziando, avevamo voglia di sentire Già le prime band Radio Contea si articolerà in 14 serate Ogni lunedì della settimana Per i mesi di luglio, agosto e settembre Si esibiranno per ogni serata Uno o più artisti che verranno poi votati In loco del pubblico tramite voto Di preferenza presso la Contea Vi ricordo la Contea è un punto davvero importante Per tanti giovani Per mangiare anche un ottimo panino Grazie Luca, grazie Federico Insomma grazie a tutto lo staff Allora ricordiamo che i primi dieci artisti Che si esibiranno in una serata finale A cavallo tra la prima e la seconda Settimana di ottobre 2014 In questo evento anzi ricordiamo anche che Radio Contea è stata così compresa Nell'ultima serata di una prestigiosa manifestazione Ristanese che si chiama Settembre Ristanese Vi ricordo che le prime tre band Avranno modo di vincere 700 euro Il primo premio è un video prodotto Da Monti Prama Films Davvero sono bravi da quelle parti Monti Prama Films Davvero bravi Più 1200 euro il premio Secondo premio a 300 euro Terzo premio a 200 euro Quindi le prime tre band avranno così Beneficeranno di questi importanti premi Allora io direi che è tutto Vi ricordo che potete visitare il sito Il sito che è www.radiocontea.com E ora ascoltiamo The Core La terza band E la canzone si chiama Like a Storm E la canzone si chiama 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 Si chiama The Core E la canzone si chiama